A volte all'estero abbiamo un po' di difficoltà a capire che è veramente il Movimento 5 Stelle. Sono due domande per il signor Casaleggio. Lei ha parlato di un nuovo modo di fare politica, democrazia diretta, ma a lei chi lo ha eletto, signor Casaleggio? La seconda domanda è questa piattaforma russò viene gestita da una ditta privata o viene gestita dal Movimento? Inizialmente Casaleggio Associati ha sviluppato questo prodotto, questo servizio per il Movimento 5 Stelle e lo ha fatto gratuitamente. Oggi lo ha donato al Movimento 5 Stelle e viene gestito dall'associazione Rousseau di cui tutti i bilanci sono pubblici, il primo bilancio l'abbiamo pubblicato qualche settimana fa, le donazioni sono state elencate qualche giorno fa e è una micro donazione di 30 euro in media ciascuno, anzi aspettiamo che altri facciano anche lo stesso in questo senso. Per quanto riguarda il mio ruolo, il mio ruolo è sempre stato quello di supporto al Movimento 5 Stelle, non ho cariche elettive, non siedo in Parlamento, non siedo al Comune, ho sempre dato il mio supporto gratuitamente, non chiedo un stipendio al Movimento 5 Stelle, e sono uno dei tanti attivisti e uno dei tanti volontari che ha supportato il Movimento 5 Stelle in questi anni.